Bitonci vende le quote era svincolate del comune di Padova. Il primo cittadino dalle 13 milioni di azioni in mano all'amministrazione conta di incassare 26 milioni di euro che verranno investiti in opere pubbliche. Noi queste le metteremo mano a mano sul mercato per finanziare tutte quante le opere pubbliche dall'arco di Giano ai marciapiedi, all'innovazione pubblica, alle palestre, a tutte le cose che ci chiedono ogni giorno i cittadini senza un euro in più, quindi senza indebitare il comune di Padova. Per Bitonci, che esclude comunque in futuro di uscire dal gruppo Era, nei prossimi mesi con la messa in discussione del patto di sindacato ci saranno altre quote a disposizione. I comuni di Bologna, di Trieste e quelli più grossi hanno chiesto di ridurre ulteriormente quello del patto di sindacato dal 55 al 35%. Noi quindi per ora rimarremo dentro il patto di sindacato, si libereranno delle altre quote che saranno quindi disponibili e utilizzeremo anche queste per finanziare, quindi saranno altrettante. Noi pensiamo di arrivare alla vendita di circa 50 milioni di euro di azioni nel tempo. Sono fondi immediatamente spendibili, non vincolati dal patto di stabilità. A livello governativo ormai da qualche anno si sta procedendo a fare delle norme e l'ultima nella legge di stabilità che danno la possibilità ai comuni di fare queste cessioni, anzi aiutano queste cessioni, svincolate dal patto di stabilità.